Benvenuti, sono il dottor Howard Envers e questo ha un video di reclutamento per il progetto Hermes. Le disuguaglianze ci sono sempre state, nobili e plebei, borghesi e proletari, ricchi e poveri, ma la situazione non è mai stata così tragica come ora. Un tempo tutti potevano godere di una vita diversa dal bianco e nero a cui siamo abituati ora. I residenti hanno il monopolio del colore e difendono la propria torre d'avorio. Noi esterni invece siamo costretti a vivere in un'anonima scala di grigi. Esiste però un codice la cui conoscenza permette di vivere all'interno della città a colori ed è protetto come il sacro gralla. Per ricercarlo selezioniamo solo elementi più geniali e addestriamo gli atleti più promettenti. Sappiamo che si tratta di un codice a simboli scolpito nella pietra e abbiamo già esplorato la maggior parte della città senza trovarlo. Non pensiate però che il problema sia solo vedere le bellezze della città. O no figli miei, l'oscurità, il buio di cui vi parlo, è il totale orrore della pazzia e la consapevolezza del nulla. A nome di tutti noi del progetto Hermes, grazie, namastè e buona fortuna. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.